Un abito aderentissimo in latex color cipria per la prima serata dell'addio al nubilato. Questo l'outfit scelto da Chiara Ferragni per la cena a Ibiza con i suoi amici e prontamente condiviso su Instagram. Neanche il tempo di condividerlo, alcuni follower hanno cominciato a chiedere alla Ferragni se fosse di nuovo incinta. Il motivo? Quella che per alcuni non è una pancia piatta, messa in evidenza dall'abito molto attillato. Leggi anche Chiara Ferragni a Ibiza il figlio Leo a casa, mamme all'attacco, dammi i tuoi soldi e lo faccio anch'io. E lei lì gela. Chiara Ferragni ha partorito appena quattro mesi, quando è nato il suo primo figlio Leone. La neomamma sfoggia un fisico davvero invidiabile e, come mostra anche i suoi follower, sta lavorando sodo per tornare ai suoi standard pre-gravidanza, così a quanti l'hanno criticata per il pancino ha risposto, datemi il tempo di tornare al mio peso di prima. Ho avuto un figlio quattro mesi fa.